Erano circa le 22 dello scorso venerdì sera quando un ladro si è introdotto all'interno del palazzetto della Synergy Basket Valdarno di San Giovanni. Si tratta del terzo assalto nel giro di pochi mesi. Il precedente raid risale al maggio scorso quando fruttò qualche spicciolo ma causò gravi danni alla società. Poi ancora un episodio a fine luglio. Anche in questo caso il bottino è misero visto che all'interno della struttura non viene più lasciato nulla di prezioso o di valore. In genti invece danni a farsene carico dovrà essere ancora una volta la società. Una vicenda commentata con amarezza su Facebook dalla stessa Synergy che ha pubblicato le immagini delle telecamere di video sorveglianza interne. Questa volta assumendo ogni eventuale responsabilità del caso pubblichiamo il video delle nostre telecamere perché si possa vedere l'inaudita violenza e il disprezzo di questi delinquenti. Ci chiediamo come sia possibile continuare a svolgere la nostra attività se continuamente minacciati da certi individui e comportamenti. Siamo affranti, concludono, non sappiamo più cosa dire e fare. Solamente qualche giorno fa, sempre a San Giovanni Valdarno, un altro furto, un assalto al bar Gardel River in zona Oltrarno, un locale finito più volte nel mirino dei malviventi.